Quarta del convegno, un miglio per cavalli di quattro anni, mezzo meccanico in movimento, netta favorito la Zambesa Denice e Vincenzo Luongo in salchi. Allineamento sono in sette, completato, è più che buono e prende velocità il mezzo meccanico. Zoraia a gradda, ha le prese e passa a Zenobia Gall, provetta partitrice, allargo la Zariba Mati. Le cavalli affrontano la piegata, si completa il lancio nell'ordine del 13-9 e Genobia Gall con il buon piccione in salchi a far andatura. Prende contatto Zambesi Adeni, ma è dietro. Quarto iniziale, che se ne va in trenta, è davanti alle tribune Genobia Gall, Zoraia a gradda, e viene via la favorita Zambesi Adeni. E l'ennesima figlia di Varen punta in avanti, 600 in 45-7, va a diretto contatto e la costringe ad allungare la Genobia Gall. Le cavalli affrontano la piegata, si completa il mezzo miglio iniziale, in 1-1 giusto, 15-3 di frazione. Penultimo rettilineo con Zenobia Gall, Zambesi Adeni, Zari Bamati e Zoraia a gradda. Chilometro chiuso in 15-6 e ovvio 14-6 e la frazione. 500 alla meta, si sono formate tre pariglie, mentre la terza ruota è per la zonda Griff. Frazione in 14-7, sta passando Zambesi in leggero vantaggio, 1-33 i tre quarti di miglio. Si va al completamento della curva finale, Zambesi domina subito e passa di slanso. E così l'allieva di Finetti in vantaggio, viene via la grande Zari Bamati che sta crescendo. E mentre Zambesi parla un'altra lingua, Zari Bamati è secondo e argina Z dei venti. Due minuti e una virgola, 1-15-1, bella prestazione di Vincenzo Luongo che fa pariglia con il fratellino più piccolo, Lometto, lui è Lomino, ha fatto vincere, ha vinto il fratello più piccolo, il fratello pieno, Salvatore Luongo. Lui, Vincenzo, vince con la Zambesi Adeni. 1,60 la quota in chiusura per questa ennesima Varenne che vi ricordo è del signore Topo Armando, oppure Armando Topo. Linea allo studio.